Mi chiamo Gioffre, ho 25 anni, vengo da New York e sono l'anima nera del mondo drag. Ho origini italiane, i miei genitori sono calabresi, mi sono ritrasferita a New York all'età di 18 anni, ho iniziato la mia carriera prima da stylist, poi da modello e poi ho iniziato il drag. Il drag è un qualcosa per confezionare un po' tutto quello che mi mancava, tutto quello che volevo fare, ballo, canto, design, moda e così è nato Gioffre. Gioffre è un zarto, Gioffre realizza costumi, abiti da scena, abiti per red carpet, sono anche un designer oltre a essere un performer. Il mio stile è uno stile glamour, horror, infatti mi definiscono la dea del cimitero. Io non punto molto sul make-up, non punto molto sulla performance, punto molto sull'estetica. Quando le persone mi vedono dicono solamente una parola, wow. Le altre drag mi hanno sempre detto di non essere una drag, mi hanno sempre scartato ovunque, chissà perché. Troppo unica. Se ci dovessero essere il musical, il canto, i balletti, io ho l'ansia, ve lo dico in partenza. Essere a Drag Race Italia è una risposta a tutte quelle che mi hanno sempre detto non sei una drag, ma guarda un po' dove sono io oggi. Andiamo fuori. Grazie a tutti